Ciao a tutti da Green Food for Gaia! Oggi andiamo a preparare dei fagioli verdi mung. Questi sono gli ingredienti. Mettiamo in ammollo per una notte i fagioli e poi li lessiamo in acqua non salata. Pelliamo le carote e le sbollentiamo sempre in acqua non salata. Tagliamo in quattro i pomodori pachino. Li riponiamo in una ciotola e aggiungiamo uno spicchio d'aglio. Prima leviamo l'anima e poi ovviamente lo andiamo a schiacciare. Fatto questo aggiungiamo l'origano un filo d'olio e mescoliamo il tutto. Saliamo e ci occupiamo delle carote. Tagliamole in modo obliquo e le aggiungiamo ai pomodori. mescoliamo sempre. Saliamo i fagioli lessati e aggiungiamo il condimento. bene, la nostra insalata di fagioli è pronta e alla prossima ricetta!